Sono i tuoi veri genitori, ti vogliono bene, ti aspettavano. Sono qui perché mia madre sta male, ma lei non sa come sta. Quando ne tiene? 13. Ma perché non posso tornare a casa? Che vi ho fatto? Che fai? Sto scrivendo un racconto. Di che parla? Ti uno come me. Siete pronti? Tranquilli signore, non ci succede. Domani andiamo al mare. Però non ho avuto a controllare se mia sorella è Stabone. Lei è della città. Ma che ti pensavi? Che ti riprendeva? Vuole solo proteggermi. Dov'è? Ripeto, chi lo sa? Non è ancora le favole. Domani e un altro giorno si vedrà. Sempre. Ho avuto a controllare se mio late.